Quando i mattoncini Lego incontrano le macchine futuristiche di Horizon, il risultato non può che lasciarci senza parole. Il set Lego 76989 è stato rilasciato in contemporanea al secondo capitolo dell'acclamato videogioco Horizon e ci permette di costruire una delle macchine più iconiche della saga, il Collo Lungo. L'esperienza inizia con il libretto delle istruzioni, che sin da subito ci aiuta ad immergerci nell'atmosfera del videogioco e ci illustra come gli artwork, le ambientazioni e i personaggi siano stati trasposti in mattoncini. La minifigure di Aloy vale da sola l'acquisto ed è la gioia di ogni collezionista, con stampe fantastiche su ogni lato, un dettagliatissimo nuovo pezzo per i capelli e come accessori gli immancabili lancia e arco. La sentinella è la prima macchina che impariamo a gestire nel videogioco ed è anche la prima che costruiamo in questo set Lego. Infine realizzare il Collo Lungo è stato veramente appagante, le tecniche utilizzate sono varie e complesse e il risultato finale è un modello articolato, fedele all'originale e alto 34 cm. Il tutto è elegantemente posizionato su una base ovale completa di piante e semafori, per un risultato espositivo davvero riuscito. Il set Lego Collo Lungo contiene un totale di 1222 pezzi ed è in vendita a un prezzo di listino di 79,99 euro. Come sempre trovi il link in bio per acquistarlo.